Tu mi stai dicendo che lasceresti il computer per un giorno, se ti chiedesse di farlo, Roberto? No, 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 c'è ragione, no. Ti ricordo prima cosa che troppessi il paletto. Noi, c'è tutto, ho fatto molto, faccio e faccio divertire. Ho preso, fin dira, c'era tutto a fare questi tre pollini. Io non sapevo che facevano una fermata così grossa, invece me la bruciavo tutta la via lì, tutta la roba di pollini. La gente che si affacciava diceva, chiamate i pompieri, brucia! Invece poi a lei ho detto, oh, vai a casa, non dico che sono stato io! Però così ho buttato tutte le prove del... Stai vendendo col paletto? Sì, no, vabbè, no, però ci ho buttato. Sì, devo mai stare. Ah, certo. Vabbè.